Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, 2 km di coda per incidente, tra Calenzane e B1 Variante in direzione nord, sempre verso nord, rallentamenti per traffico tra B1, Compranare e Firenze Nord e B1 Variante. Ci spostiamo in Fibili, 1 km di coda per lavori in aumento tra Empoli Est e Ginestra in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza, percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo che è entrata in funzione la tredicesima fermata della tramvia sull'alineati 2 Vespucci. Si tratta della fermata Redi, tutte le informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, un viaggio! Grazie a tutti!